La Iena Opera è da Reggio Emilia Grazie di essere presenti alla serata organizzata da noi quattro Prima di cominciare vorremmo ringraziare Andrea per il suo ottimo contributo Serena per l'immenso lavoro che ha fatto per tutti i post E per una che ha creato la pagina di Facebook Che ha dato vita a questa iniziativa Ringrazio e non ringrazio Massimo che ha dato la Incompensa a noi comunque di fare la serata E a Damiano che ha lanciato l'idea della serata pubblica Ringraziamo i miei polini che è là che manderà avanti tutte le slide per noi E niente, in questa serata intendiamo innanzitutto ricordare i fatti, le persone, i pochi e gli aneddoti che hanno reso grande il nostro paese E la cosa più importante che vogliamo fare questa serata è strappare un sorriso Un sorriso che in questo momento abbiamo preso io tutti Passo la parola Andrea e invitiamo a ringrazio Buonasera Grazie per essere venuti qui così numerosi Per voi è un grande piacere e anche una grande emozione trovarmi qui E vedere che ci sono così tanti volentesi interessati a una serata alternativa Perché possiamo dire tutto tranne che questa sia una serata canonica Di solito noi siamo arrivati a vedere commedie di lettale Commedie di vario genere, proiezioni cinematografiche Ma mai si è creata, secondo voi, una serata dedicata all'allogamento storico del nostro paese Due o tre vicende, giusto per spiegarvi su come a dubbio Procederemo? Quindi voi si sentite bene Corretto? Il bello volete vedere, ecco E vi mostreremo un po' quelli che sono tutti i materiali O comunque gran parte dei materiali che in questi tre mesi sono stati introdotti da noi tutti All'interno del gruppo Ne abbiamo scelti alcuni per ogni motivo di spazio E su alcuni ci sottrapperemo appunto per analizzarli, per discutere E speriamo di avere un'interazione molto positiva con voi E ricordiamo inoltre che trattandosi di un tema che è praticamente infinito Sicuramente avremmo commesso degli errori, sicuramente avremmo commesso delle dimenticanze Ci scusiamo, però come diceva Mario, l'obiettivo è appunto quello della condivisione Quello della spingeratezza E speriamo comunque, insomma, di avere fatto un bel lavoro Che si è rivolto a gradimento E che ci possa aiutare ancora, o molto di più, a essere goliosi e a essere attuali Mi sembra curioso, prima di far iniziare il contatto della proiezione Dare un secondo la parola a Bruna Perché, per chi non lo sappia, Bruna Flippong È la ragazza che ha avuto l'idea di creare se è un corretto se Quindi, insomma, diciamo che è proprio la prima che dice Grazie 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 veramente di cuore di essere venuti Non me lo aspettavo, grazie veramente tanto E io ho fatto questa pagina Innanzitutto per competere con gli altri paesi della provincia Che l'ha fatta prima di noi Devo dire che è molto successo perché abbiamo battuto Bricello Come è questo grande di caso Niente, no, mi ha stupito veramente tanto il fatto che abbiate partecipato in tantissimi alla pagina Quindi 700, come mi sembra E 650 addirittura Veramente grandi E mi sono sentita veramente orgogliosa di essere, di fare tutte le vite Spero che vi piaccia quello che abbiamo fatto, che hanno fatto Perché, c'è, io ho avuto l'idea e l'ho fatto tutto bene E niente, buona sera E niente, buona sera E niente, scuola più di te Grazie